Buongiorno da Edo, parliamo anche di Windows qualche volta, no? Però è un Windows diciamo così pinguinato perché sto parlando del Windows Subsystem for Linux ovvero quel WSL che fu introdotto in beta con l'anniversario update su Windows 10 nell'estate del 2016 e forniva l'interfaccia a un kernel compatibile Linux completamente sviluppato da Microsoft e consentiva di eseguire uno spazio utente GNU con l'immagine di Ubuntu e poteva contenere una shell bash e molti strumenti nativi Linux. Poi nel 2019 era arrivato WSL2 che era una completa riprogettazione stavolta su una virtual machine leggera basata su Hyper-V che ha le stesse performance della versione precedente ma offre molte più possibilità e nel frattempo sono arrivate altre distribuzioni che è possibile installare come SUSE, Kali, Debian eccetera. La notizia di oggi è che Microsoft e Canonical hanno lavorato assieme per aggiungere il supporto a SystemD. SystemD è un software Linux che agisce come un service manager e serve per inizializzare demoni e servizi al boot del sistema operativo e poi offre tutte le funzionalità per gestire i servizi nella loro fase di vita ed è il primo processo creato dal kernel Linux durante lo startup mentre tutti i servizi successivi sono lanciati e gestiti da SystemD stesso, quindi sono children di SystemD. Fino a questo momento WSL utilizza Init come service manager e quindi le app Linux che richiedono SystemD non possono funzionare. Parliamo di app come Snap, MicroK8S o SystemCTL. Questa novità ha richiesto un cambiamento a livello architetturale per WSL perché SystemD richiede, come dicevamo, di essere il primo processo lanciato dal kernel, quindi il PID1 e quindi è stato necessario spostare il processo di WSL Init, che è quello che si occupa della comunicazione tra componenti Linux e componenti Windows e farlo diventare un child di SystemD e questo cambio di gerarchia ha richiesto di ripensare un po' gli assunti fatti in fase di architettura. SystemD per ora è disponibile in beta, quindi se siete utenti del programma Windows Insider potete abilitarlo, dopo aver ovviamente aggiornato WSL, dal file di configurazione. Oh, parliamo ora di un fatto che riguarda, diciamo, la security. Sapete che per verificare l'integrità di un file si può controllare il suo MD5, cioè si genera un hash con l'algoritmo MD5 e si controlla che il risultato corrisponda al checksum fornito dal creatore originale del file così si è sicuri che non sia stato alterato perché due input diversi daranno sempre due checksum diversi. Bene, da qualche anno ci sono dei ricercatori che sperimentano tecniche per includere il checksum direttamente nel file originale un processo che, come potete intuire, va incontro a un paradosso perché ciò che è generato a partire dal contenuto di un file è parte del contenuto stesso. Un file creato con questa tecnica prende il nome di hashquin e già nel 2017 due ricercatori di Google erano riusciti a generare GIF o GIF GIF e file PostScript con questa tecnica e oggi David Buchanan è riuscito a generare un'immagine PNG contenente il checksum quindi la prima PNG hashquin. Il nome di Buchanan forse vi risulta noto se seguite un po' la security perché lo scorso anno aveva generato un'immagine che veniva mostrata in modo molto diverso sui device Apple e su quelli non Apple ma questa scoperta è molto più clamorosa e ha un grande potenziale pensate alla possibilità di generare un'immagine caricarla su internet e essere certi che chi la vede magari su un social network stia vedendo esattamente quello che avete generato voi senza alterazioni da parte del provider del servizio insomma apre delle possibilità secondo me molto interessanti. Ovviamente per questa, per WSL, per tutte le considerazioni tecniche che ho lanciate in questa puntata vi lascio tutti i link in descrizione così potete approfondire per bene grazie per avermi seguito anche oggi domani quindi mercoledì 28 settembre niente buongiornone perché c'è il Drupal at Localhost di cui sono host anzi se vi va veniteci a trovare siamo su YouTube è un evento gratuito creato da Grusp e Sparkfabric c'è della bella gente parliamo di Drupal c'è anche Dries c'è Dries il creatore di Drupal il grande creatore di Drupal per la prima volta in Italia qui nelle veste ovviamente di ospite di un evento di questo tipo e ovviamente gli chiederò come si pronuncia il suo dannatissimo cognome insomma se volete ci vediamo domani altrimenti alla prossima qui al buongiornissimo ciao ciao